Et voilà Moser ci cade dentro come una pera cotta, a differenza di Cecilia che continua a fingere di non sapere a cosa si riferiscano non capisco. A quel punto sarebbe intervenuta anche Giulia De Lellis in difesa dell'amica modella Cecilia stai esagerando. Intanto Cecilia ha espresso i primi dubbi sulla sua storia con Ignazio fa alcuni confronti con Francesco Monte Francesco è più bello, ha un viso bellissimo, lui è la perfezione. Grande fratello VIP 2 Ma per quanto il messaggio cattivo abbia fatto impallidire Cecilia e Ignazio, presto tornano a sorridere con due nuovi messaggi, questa volta tutti pieni di sostegno gli dice e l'amore vince su tutto. I Rodriguez affermano che l'audio equivoco ma non equivocabile sia stato aggiunto dagli haters che popolano i social. Cecilia e Ignazio stavano solo parlando, ma noi non abbiamo fatto un co' nell'armadio. In un suo commento pubblicato sul profilo Instagram ha voluto dire la propria opinione su ciò che sta succedendo ora nella casa più spiata d'Italia. Al GF VIP 2017, Cecilia e Ignazio saranno divisi. Nel dettaglio Ignazio Moser ripensando al modo in cui lui si è avvicinato in un primo momento a Cecilia e anche al modo in cui Luca Onestini, in queste ultimi giorni si è avvicinato alla bella Ivana, ha detto che sicuramente il fidanzato di Ivana non sarà molto contento di quello che ha visto nel corso di queste settimane e potrebbe essere addirittura incazzato nero con lui e Luca Onestini. Poi se la prende con Ignazio sono scelte, sei libero di fare quello che vuoi ma poi ti becchi anche le conseguenze, si tratterebbe di Ivana Marazzova e Luca Onestini. Luca, trascorrendo più tempo insieme ad Ivana, rispetto all'inizio dell'avventura all'interno della casa, starebbe guardando la modella con occhi diversi. Comincio a sentire il bisogno di una donna, è veramente tosta qua dentro. Daniele Bossari, ignaro probabilmente della storia dell'armadio, ha chiesto ma non è che avete fatto qualcosa di H0 tonnellate. A pagina successiva trovate le nomination e i sondaggi per la prossima eliminazione del Grande Fratello.